Salve Lloyd, c'è poca gente stasera, lei ha ragione Mr. Torrance, che cosa prende? Una domanda molto azzeccata caro Lloyd, perché si dà il caso amico mio che ha due pezzi da 20 e due da 10 qui nel mio portafogli? E temevo che ci rimanessero fino all'aprile prossimo, allora facciamo una cosa, tu mi passi una bottiglia di bourbon con del ghiaccio e un bicchierino, che dici ci riesci Lloyd? Lloyd, non è che hai troppo da fare? Sono sempre a sua disposizione, sei l'uovo che cercavo, allora tira fuori tutto che mi faccia una bevuta Lloyd, così mi tira su. È il senso del dovere che ci frega amico mio, il senso del dovere ci frega. Oh Lloyd, ho paura che per il momento sto al verde, come andiamo a credito in questo vocale? Oh per lei non c'è nessun problema, questa è classe. Tu mi piaci Lloyd, l'ho sempre detto io, sei il miglior barman del mondo, il migliore fra tutti i dannati barman che ho visto tra Timbuktu e Portland, Maine, o Portland, Oregon se preferisci. Lei è davvero gentile. Volevo dire, io le mani addosso non glielo mai messe, non l'ho toccato. Io quella sua dolce testolina santa non la toccarei nemmeno con un dito. Io lo amo quel mio figlietto di puttana. Io farei qualsiasi cosa per lui, qualsiasi fottuta cosa per lui. E quella stronza. Lo so che fino a quando vivrò farà tutto il possibile perché io non dimentichi. Io gli ho fatto male una volta, ok? Ma è stato un incidente. Senza nessuna intenzione. Non l'ho fatto mica apposta. Ma può succedere a tutti, è stato tre maledetti anni fa. Quello stronzino aveva buttato a terra tutti i miei fogli di carta, allora io gli ho preso un braccio e l'ho tirato via. E' stata una mancata coordinazione muscolare, nient'altro. Capisci? Soltanto qualche chilogrammo di energia in più per secondo, per secondo. Soltanto qualche chilometro.